No, già lo puoi in tirare, credo. 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 No, già lo puoi in tirare. No, già lo puoi in tirare. No, già lo puoi in tirare, credo. 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 Non, già lo puoi in tirare, credo. Non, già lo puoi in tirare. È l' estorzate del 8. Non, non, non. Non, 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 non. si po lo fia lo va a ponerlo pa'l carajo ya sabe lo puse con la regla eeeh a quel lo puse con si ah la mano qui ahi ah enredo para quedar aqui en lincha eeeh claro 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 tu vas a eeeh eeeh ehm... oca io se che 8 io se che 8 come non specificano che mi mamano il bicho dicendomi brutto a mi è ese nubi si te ha dato si te ha dato che pari hablando mierda io se che 8 io se lo dice a Simplicity però come la regla no dice nada poi è che uno entiende cabron che lo pone 8 lo pongo a ver ora no se vuole la Kimbo si, si, io se lo quite vale, vale come alla Simplicity, papi tas caghi Simplicity tas caghi entramos aqui haciendo estrategia nos llamamos por teléfono si, hay algo jejeje ya lo tiro papi si, va de rato jejeje eee parale este, güey parale ahí pues a l'apampe Sì 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 non si è stato il primo capire i obiettivi hardpoint identifichi in medio in medio hostiles ha capturato hardpoint wow vamo hardpoint vanno vanno hardpoint lock down vanno non puce no vanno no vanno 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 Per la Londra? C'è uno all'inferno, c'è uno all'inferno 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 C'è uno all'inferno Hardpoint identifiz... Hostiles hanno il hardpoint C'è uno, ok, ok Bicca, vamo, vamo Viva, vamo Sì, viva, vavi Ah, ora cazzo! D'acqua per l'altra, d'acqua per l'altra Sono tirando da un'altra Puoi dire che... Vamo per l'altra C'è un'acqua? C'è un'acqua? C'è uno per mezzo! C'è uno per mezzo! C'è uno per mezzo! C'è un'acqua per mezzo! C'è un'acqua per l'ambos C'è un'acqua per l'ambos Nada papi... Un'acqua per l'altra Quattro Oh, c'è un po' nella tavola, c'è un po' nel pavellamento. Ah, non c'è un po' nel giro 가� Alla paura Ok, ora! Ok, ora! Un' tentazione mamma! Raffa! Cosa c'è la scala! Prende a una scala! Chico, per un'altra è mio! Ah! Oh! Pag. 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 P We're losing this fight I got it together, I got it together The mark point is out No, i'm going to get it I'm here, where's he? He got the mark point identified The camera is moving around Aspettiamo, Aspettiamo a me. Sì, c'è un uomo blanco C'è un uomo blanco Per la direzione Sì, c'è un uomo Sì, c'è un uomo Mi racciaron Sì, c'è un uomo Perciò 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 Forse Fai È un uomo Che fai C'è un uomo Noi, la principi Un uomo C'è un uomo no allora attraverso l'ambo attraverso l'ambo Alcina 2, 2, 1 chungo Sì, sia l'alpiste, sia l'alpiste Eh, è l'alpiste, è l'alpiste Sì, sì, io non riesco No, 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 non puoi arrivare No puoi arrivare Sì, 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 sì. Ah... No, non, non, non. Ottieni il contesto. Nel piscina. Va sua volta. Ok, ok, ok. Sì, siamo arrivati al lato Lato là, lato là, lato là La ferie sta piegando il piedra Alla cosa devo dire? Non metano Arriba 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 Brisco uno Brisco uno Stai in X Stai a un Demoni Stai a 2 Stai a 3 Stai a 3 Stai a 3 Stai a 3 Stai 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 a 3 Stai 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 Sì, 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 sì. Solid execution, good job. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 I parametri ottenuti, benissimo Alguien sape di Team Siphon e il altro? Non sape se Siphon sta conoscendo? A ver, io ti dico ora se si Siphon o no No, però non lo vamo por essere mamma Dai un bel party con Garaimo ArmaVisa Simplicity No, per favore, non le digan la pena che le diste a qui Ok, dai, vabbiamo Lo perdiò, lo perdiò, Aran Si, Aran, Siphon perdiò No! A ver, a ver, vas a tirar un match Entonces de Simplicity contra Audi Verdad? Vamo a ver, súmelo pa'ca, súmelo pa'ca Eh, ahora vas a ayudar a ti y todo, vérate Carlos! Esta botagera, eh! Ese es friend y comiendo, cabrón Que clase de cojones Vale, comando como tu quieras, Driza Que clase de cojones Ah pi' llegó estable en Puerto Rico Jajajaja Cacho Es malo tener el conexo en Estados Unidos Noi L'adrice è un guateca Si Come la stage Verà che No L'audi me sta invitando L'audi me sta invitando L'audi me sta invitando L'adrice Preguntare a Marco Preguntare a Marco Preguntare a Marco Preguntare a Marco Dale Uy me voy de aquí Jizu Impul esta oyendo Si esta aqui Dile que es un mamon Mira que empieza el Audi para ver otro round Preguntare al Audi Preguntare al Audi Preguntare Uy loco Carai El juego va a ser ahora mismo cabrón No hay break papi No hay break Por lo menos uno o dos jugara Ayer se hubiera jugado ayer Aloooo Por que no sabe Usted se conectaron con el equipo para que no se vea Por eso mismo digo cabrón Que hubiera aprovechado a hacer par de cosas Tranquilo ya te digo Segunda ronda verdad Segunda ronda verdad Simplicity Si vamos para la otra ronda ahi Si Oye jizu esta pompeao Maldito Yandel Preguntare Preguntare Va a ser los mapas Segunda ronda Conocen Conocen Verdad Eh cuilleta Prontale a Yadier Mal comido que le prontale a Yadier A un hombre Porque faltaria Prezi en contra nubo Y la Audi Si prontale a Yadier Este seria como este Mejor de 3 tambien o mejor de 5 Hey No mejor de 3 Bueno Mejor de 3 Pues yo jugu esta ronda hey Hey Es mejor de 3 En la otra ronda entonces que mejor de 5 No se tampoco Lleve Lleve a la final yo creo La final pues No se ¿Oíste la Audi? Yo creo que se metia a bañar Y... Dejame ver si Dejame Blue se fue a bañar Aja Cuando el dijo Bueno yo vengo ahora Pues dijo que se me metia a bañar Yo no se Eso fue lo que yo escuché Estandos Hardpoint se fue la hora Uy Estandos Hey Hey Y después CTS slump Yo estendí en express reunido Una vez El otro no El otro es Do clash Y S.M.D.F. Let me A atractiva esta primera estrategia chris Diseña